Non solo le bellezze del centro storico e i monumenti tra il patrimonio che Fano offre i suoi cittadini e turisti, ma anche risorse ambientali a due passi dal mare, come la pineta di Ponte Metauro, antica più di 2000 anni, e che già gli antichi romani curavano con piante adatte alla manutenzione del ponte, allora costruito in legno di pino. Oggi la pineta viene usata come spazio di relax e ristoro, soprattutto in giornate di festa come quelle appena trascorse, ma a volte ci si rilassa talmente tanto da dimenticare le norme di buona educazione e rispetto per l'ambiente circostante e soprattutto gli appositi contenitori per i rifiuti presenti in tutta l'area del parco. A prima vista sembra essere in ottimo stato, ma addentrandosi un po' verso il corso del fiume che la costeggia è molto facile trovare residui dei bivacchi festivi, bottiglie, piatti e bicchieri di plastica, resti di cibo, fazzoletti usati e assorbenti che potrebbero rappresentare anche un pericolo per i bambini delle scolaresche che approfittano degli spazi verdi durante le pause delle lezioni.